Io sono molto contento con le partite stasera. Pensate a noi, ho giocato molto bene per due tempi. Il terzo tempo ho anche giocato abbastanza bene, però è importante, noi siamo una squadra giovani, tanti nuovi giocatori e adesso deve imparare come si vince. Questo terzo tempo, finamento, ha vinto un terzo tempo, ha giocato bene anche su PK. Marcello ha giocato bene, se lui gioca così, dà a noi un chance per vincere ogni partita. Adesso sono contento, c'è tanti lavoro per andare avanti. Inizio domani un day off, inizio martedì con un nuovo. It was a good hard fought game, we've lost a couple of really close ones and we needed to find a way to win and I think that was really important for us tonight to find a way to win in a one goal game and hopefully we can build on that momentum and start winning some games here. I think it's been very good. I think it's time to get a few of our swings to win, so that a few players win it. And yeah, a lot of them have shown us that we can't play with all of them. And yeah, I hope that we'll win in the next two games and we'll win again. The best of us win and we'll be able to win. And we'll be able to win. And we'll be able to win. the best moment with you. bow